Ciao a tutti, allora perdonatemi le condizioni semipietose, mi vedete ho il cerotto riscaldante per la cervicale. Purtroppo, a quanto mi ha detto il medico, è una contrattura muscolare, quindi non è una cervicalgia come mi avevo sospettato, ma è una contrattura muscolare, tra l'altro sono praticamente bloccata, infatti sono vestita proprio da casa, questa è la maglia del pigiama, andiamoci così, sono in condizioni pietose, mi perdonerete, però purtroppo sono così. Di conseguenza, voi sapete bene che io non mi imposto, non mi sistemo per fare video, perché il mio canale YouTube è come sono io, spontaneo, non ho bisogno di sistemare location, di fare sfondi, robe strane, niente di questo questo. Faccio questo brevissimo video perché il mio gruppo Facebook, che è legato a questo canale, si chiama come questo canale, vi metto giù nell'info box il link, sta crescendo benissimo, sono felicissima di questa cosa, quindi questo è un brevissimo video promozionale per il canale di Facebook, per il canale scusate, per il gruppo Facebook. Peraltro il gruppo Facebook è legato a questo canale. Sono felice perché quel gruppo e questo canale nascono per una passione mia legata appunto al make-up, al bio, all'eco bio, all'eco biocosmesi, ai prodotti con buon inci, quindi è una cosa importantissima per me, è una cosa proprio che mi appassiona. Di conseguenza sono felicissima che il canale e il gruppo stiano andando bene, sono contenta. Per altro saluto e ringrazio i nuovi iscritti, diciamo che non ho nient'altro di particolare da dire, volevo solo ringraziarvi tutto qua. Bene, io farò la prova, non l'ho mai fatto ma lo farò, di mettere il pallino con le info per rimandarvi magari direttamente al link del gruppo. Se non dovesse trovare perché non riesco a farlo perché sono un'impedita, lo trovate giù scritto nell'info box, lo metto giù scritto nell'info box. Il gruppo è chiuso, è un gruppo chiuso, quindi vi dovete iscrivere. Prevalentemente, ed è io ho preferito rimanesse così, prevalentemente è un gruppo di donne, di sole donne. Se ci saranno uomini, saranno legati alle persone che sono all'interno, quindi se ci sono amici, fidanzati, fratelli, non c'è nessun problema. Perché ho fatto questa scelta? Perché purtroppo molti uomini entrano a far parte dei gruppi di donne per provolare, quindi per provarci, per infastidire. Di conseguenza preferisco mantenere il gruppo più di nicchia, evitando che ci siano persone che possono infastidire le utenti. Bene, io vi ringrazio, vi saluto. Scusate ancora la misa, ma voi sono in condizioni veramente iperpietose, ma va bene così. Al prossimo video, ciao!